Ad una figlia che invecchia. Figlia mia, la natura non ti è stata davvero matrigna e il destino ti ha permesso una bella famiglia sana e unita. Hai un'intelligenza viva ed una ricchezza di spirito della quale non sei consapevole. Infatti avverto in te tanta sofferenza nel profondo. Davvero l'idea di perdere la bellezza ti spaventa al punto da tramutarsi in sofferenza figlia mia tutte le creature invecchiano quelle che arrivano a compiere un certo arco di esistenza e quindi la vecchiaia è un processo biologico che nessuna alchimia può arrestare. Anche l'esistenza dell'uomo è suddivisa in stagioni similmente a quelle della terra, del mare, degli altri corpi celesti perché l'uomo è costituito dagli stessi elementi del tutto. La primavera e l'estate della vita sono improntate alle soddisfazioni transitorie mentre l'autunno e l'inverno donano o dovrebbero donare la saggezza dello spirito specialmente a chi è consapevole di avere vissuto nel meglio di se stesso. Figlia mia è comprensibile che tutti faccia un'operazione di plastica per prolungare un'apparente giovinezza ma non più di tanto. Medita sulla sofferenza di quelle donne che hanno fatto della loro bellezza il trono della loro vita nel vedersi invecchiare inesorabilmente. Perché tanta tragedia? Perché quelle donne sono simulacri vuoti? È deteriorata l'esteriorità, in loro rimane poco. Non lamentarti se scopri una ruga in più di ieri, non rattristarti nello sfogliare l'album delle foto. Pensa piuttosto che ogni età alla sua ragione evolutiva. La gioventù e la maturità ti hanno dato tanto, ma è giunta l'ora di cancellare i rimpianti ossessivi e di dare più spazio alle bellezze dello spirito che non conoscono tramonti. Commento? Noi accettiamo la vecchiaia come ci detta il nostro grado di evoluzione. La accetteremo al meglio, se comprendessimo come spiegano i maestri immateriali che la vecchiaia è il periodo supernormale della vita dell'uomo. Il tempo in cui è più possibile intuire il destino immortale della coscienza.